Allora, la sicurezza innanzitutto è la cosa più importante quando si va ad investire nelle cripto, premessa quindi fondamentale, iniziate a verificare che la vostra casella e-mail, soprattutto se poi un'e-mail collegato a vostre registrazioni, per esempio su dei checks cripto, non è stata hackerata. Lo potete verificare su questo sito evaibinpound inserendo qui il vostro indirizzo e-mail e cliccando su pound. Vi lascio in descrizione. Fatta questa premessa, oggi parliamo di Iotexpad, della blockchain di Iotex, come aggiungerla su Metamask e come fare il claim dei token, come andare a venderli. E la potenzialità di Iotex e in generale della situazione dei launchpad, perché questa era una IDO di Oxbull. Per quanto riguarda in generale i launchpad, in questo particolare momento io non sto entrando nelle nuove IDO, perché i grafici delle monete, dei token, stanno avendo più o meno tutto questo andamento. Grande pump al lancio, che c'era stato soprattutto magari uno o due mesi fa, o anzi a novembre, poi con l'ultima situazione del mercato, questo è l'andamento. Scusate, qui si è andato in palla il sistema. Ecco, questo è l'andamento, questo per esempio era Cacti Club, prima l'ho fatto vedere The Spartans, poi qua Legends of Mitra, ecco un altro grafico, vedete, hanno tutti più o meno lo stesso andamento. Questo è Manufactory, buona lancio, buoni risultati, poi Dump, adesso Manufactory si sta anche leggermente riprendendo, questo è Space Sip, ha fatto molto bene al lancio, e poi una discesa, questo è Space E, anche lì super lancio parabolico, e poi discesa, stanno andando più o meno tutte, così stanno ritornando al prezzo IDO o sotto, perciò in questo momento sono in attesa. Non sto entrando, però per chi è entrato in IoTeX Pad, come andare a fare il claim dei token e poi andare a venderli? Allora, innanzitutto bisogna connettere, aggiungere a Metamask la rete IoTeX. Quindi la prima cosa, andate sul sito Chainlist e dove c'è scritto Search Network, dovete inserire la rete IoTeX Network Mainnet Connect Wallet, cliccare qui su Connect Wallet e poi praticamente dovrete aggiungerla al vostro... in automatico ve la aggiungerà a Metamask, qui non ho il wallet connesso, poi basta questo perché vi serviranno degli IoTeX per andare a fare poi il claim dei token, che per esempio qui su Oxbull, se avete partecipato all'Aido, avrete bisogno degli IoTeX. Ora non c'è un FAO, certo almeno non mi risulta, quindi li dovete per esempio acquistare su un CEX, per esempio Binance, su Binance si possono acquistare gli IoTeX e poi dovrete andare a prelevarli, minimo un IoTeX e li dovrete... a che indirizzo? Al vostro address, ma non l'indirizzo Metamask, ma alla rete di prelievo, la rete IoTeX occorrerà convertire il vostro address Metamask in un address IoTeX. Come si fa? Su questo link, che poi vi lascio in descrizione, dovrete qui inserire il vostro address Ethereum, quindi quello che usate su Metamask, visto che è un Ethereum Virtual Machine compatibile, va bene, su tutte le cene sarà lo stesso address, però poi lo dovrete convertire in un address IoTeX, quindi dovete cliccare qua su Convert to IoAddress, vi uscirà un address specifico, dovrete poi incollare su Binance questo address nuovo che avrete generato, selezionare la rete IoTeX e poi potrete essere pronti per andare a fare il prelievo di alcuni IoTeX, minimo uno, così avrete le fee minime per andare poi a fare il claim, per esempio qui su OxBull. Poi come si fa a vendere gli IoTeX Pad? Questo è già il link su DexScreener, che poi vi lascio in descrizione per la coppia di scambio di Tex, che è la moneta di IoTeX Pad, quindi con USDT, attualmente sono 22 centesimi circa, il prezzo idora 10 centesimi, poi da qui vedete che dovrete andare a cliccare su Trade on MIMO, cliccate qua, Trade on MIMO, questo è il Dex di IoTeX, su cui è stata inserita la liquidità, e automaticamente vi legge l'address del token IoTeX, che poi potete anche copiare ed aggiungere su Metamask, cliccate qui su OK, ho capito che chiunque può creare un XRC20 token, cliccate su Continua, che dovete collegare il vostro wallet e a quel punto potrete andare ad approvare il token e a venderlo. Questa è la procedura per la vendita, per esempio io l'ho scambiato i miei IoTeX con gli IoTeX, proprio con la moneta della blockchain, perché ritengo che la blockchain di IoTeX, ha un potenziale di crescita ancora molto alto, ora vale quasi 10 centesimi di dollaro, qui vediamo il suo grafico da sempre praticamente, che ha avuto un massimo storico in novembre di 25 centesimi, ora sta ritornando a salire e probabilmente potrebbe essere un potenziale ancora di crescita molto alto, ha avuto una capitalizzazione di mercato di meno di un miliardo, attualmente siamo in posizione, il ranking come market cap al numero 104, ma la blockchain di IoTeX è una blockchain, chiaramente deve ancora un po' sviluppare tutta quanta la DeFi, però IoTeX è la blockchain più veloce, più sicura, più scalabile del mercato, così si definiscono loro speed, security, scalability, mi ricorda molto per esempio Solana, anche così si definiva, ricordiamo l'anno scorso Solana, Polygon, la crescita che hanno avuto esponenziale, quindi IoTeX potrebbe, uso il condizionale, potrebbe seguire le orme di altri blockchain come Avalanche, anche appunto Polygon e Solana e fare un bel rally da qui ai prossimi mesi o magari tra un anno o due, però intanto potrebbe essere interessante prendere una posizione adesso che è sotto i 10 centesimi. Questo era in sintesi la procedura per andare quindi a fare il claim degli IoTeX, quindi andare per innanzitutto aggiungere la list, la chain di IoTeX su chain list, poi convertire il vostro address metamask in un address IO e quindi per esempio su Binance poi acquistare gli IoTeX e fare prelevarli su questo nuovo indirizzo convertibile, quindi a quello punto potete andare a fare il claim e poi andare a venderli su MIMO approvandoli e poi potete andare a fare lo swap. Bene, se vi è trovato utile i contenuti in questo video, vi chiedo di lasciarvi un like, un commento e condividere questo video, così aiutate anche a crescere il canale.